C'è qui, in una sua opera, dice, essere o non essere? E' un po' di connessi e dico, ma è meglio essere o meglio non essere? Che cosa la vita oggi rappresenta? Vuole l'uomo vero o vuole l'uomo finto? Vuole l'uomo che recita, che finge o vuole la persona vera, con emozioni vere, reali, soffre, piange, ride, ma è vera. E' dura, perché poi io ci penso, ci penso, a me la notte non dormo, e mi dico, ma devo essere vera o no? Che cosa le persone vogliono da me? La verità o la fattità? Però poi arrivo a una risposta, o almeno credo di esserci arrivata, forse, non lo so. Io voglio poter dire, scusi, come dire? E poi, se le persone vogliono un film, io non sono capace, mi piace, se invece mi accettate per quello che sono, io sono conti. Grazie. Grazie. Grazie.